Allora un po' per capire anche un altro aspetto, mi faccio sempre riferimento al memorizzando le varie mail che sono arrivate anche le telefonate e quindi approfitto della presenza dell'assessore. In regione ci sono adesso i finanziamenti per aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà, quindi tutto quello che comparto del sociale relativo agli anziani? Allora bisogna distinguere tra alcuni provvedimenti che sono in itinere, cioè a parte quelli che sono appunto ci sono i provvedimenti che sono quelli per la residenzialità, per gli anziani appunto non autosufficienti, quindi andiamo ad attingere dal fondo non autosufficienza, per sia quelli che sono nelle strutture, quindi nei centri servizi, per quelli che frequentano i centri di urno, gli assegni di cura, le impegnative di cura domiciliare, diversificazioni, indicati in base alla gravità appunto delle patologie o della situazione che uno si può trovare. Ci sono poi, tipo adesso, abbiamo la settimana scorsa, abbiamo rimesso in pista il servizio civile anziani, che è una forma diciamo... Per la partita del prima, tanto per capirci, stiamo parlando di 600-700 milioni, sulla partita che dicevi prima del fondo... Sul fondo sono 720 milioni che sono divise poi 450 milioni circa per la residenzialità anziani, poi c'è la residenzialità disabili, centri di urni, insomma ci sono le varie... Quindi sono l'impegnativa di cura domiciliare, quindi ci sono 720 milioni. Poi ci sono degli altri meccanismi che sono stati messi in pista e che noi mettiamo in pista, tra cui c'è il servizio civile anziani, che è appunto, diciamo così, insomma, quella, tra virgolette, lo possiamo chiamare, visto che prima parlavamo appunto dell'invecchiamento attivo, già diciamo qualcosa che va nella direzione dell'invecchiamento attivo, la popolazione sappiamo che può ancora dare qualcosa, quindi i nostri pensionati possono essere di aiuto, nonni vigili o altre, diciamo così, lavoretti e ricevere anche un contributo che quindi va a fare un po' di rendito in più rispetto a quello che vuole essere una pensione. Ed è previsto, è già operativo questo. Poi abbiamo in maniera sperimentale il secondo anno il RUI, era reddito ultima istanza, reddito di inclusione attiva, che anche questo è un altro meccanismo per cui abbiamo stanziato un milione e otto mi sembra circa, in cui anche in questo caso andiamo ad aiutare le persone la fascia degli esodati, diciamo, delle persone che si trovano in una situazione di un certo tipo, che non hanno degli ammortizzatori e quindi non godono di altri ammortizzatori sociali e facciamo un percorso di riserimento lavorativo per sei mesi, quindi ci sono una serie di meccanismi, sono pochi, certo sono pochi, non sono, forse non riescono a rispondere a tutto, però ci sono, insomma stiamo man mano cercando di mettere in pista anche meccanismi e progettualità di questo tipo, che vadano soprattutto, oltre a integrare quello che può essere il reddito di una persona, soprattutto una persona che si trova in difficoltà, oppure la privazione di ammortizzatori, uno che perde il lavoro, ma vanno anche in un certo senso a dare la dignità, il supporto psicologico a una persona che si trova in un momento di difficoltà e vogliamo cercare di, che ci sia un riserimento lavorativo, quindi come un passaggio, deve essere un passaggio nella vita, nel senso sperando che poi ci siano delle condizioni migliori, quindi ci sono tutta una serie di meccanismi che vanno in questa direzione, devono essere potenziati, devono essere fortificati, dobbiamo trovare maggiori risorse, non posso che come assessore ai servizi sociali dire di sì, devono cercare di diventare strutturali, certo, quindi su questo qui, ma credo che il sindacato ci siamo confrontati la settimana scorsa su questi temi, sicuramente devono andare in questa direzione. Dopodiché adesso c'è il provvedimento nazionale per quanto riguarda la povertà, che però devo dire la verità, è molto complicato, cioè nel senso vado ad aiutare, vado ad aiutare tramite una card, tramite l'INPS, le poste, i redditi delle famiglie sotto i 3.000 euro, quindi insomma uno non ha niente perché il reddito sotto i 3.000 euro insomma, cioè vuol dire che uno è nulla tenente e con, dando quindi ai figli 80 euro per figlio per sei mesi, insomma è complicato, molto complicato, faraginoso, cioè viene delegato poi tramite i comuni l'INPS, adesso stiamo capendo appunto con il governo la gestione perché è il famoso fondo, i famosi 600 milioni per la povertà che poi non erano 600 milioni perché all'interno c'erano anche gli ammortizzatori sociali, quindi alla fine sono 350 milioni mi sembra circa legati proprio alla povertà delle famiglie e dei minori, così viene insomma stato definito dal governo Renzi. Per carità, mettiamo in pista tutto, è chiaro che qui insomma in questa condizione qua, in queste situazioni è sempre tutto molto poco. Assessore, dove si potrebbe intervenire per reperire delle risorse? A livello regionale, dove si potrebbe intervenire per reperire delle risorse finanziarie? Oggi come oggi rispetto alle risorse che abbiamo noi, cioè non ci sono risorse, noi abbiamo tagliato tutto, cioè nel senso, ma lo sanno i colleghi, il sociale probabilmente è stato in questa finanziaria nel bilancio 2016 quello che è stato toccato meno di tutte le altre voci, perché se guardiamo cultura, turismo, sono stati tagliati tutti. Abbiamo cercato di salvaguardare il più possibile il bilancio del sociale, con l'impegno di reperire ulteriori fondi, però con molta difficoltà, con molta difficoltà, devo dire la verità, però chiaramente consapevoli che questo è il settore oggi più fragile e più vulnerabile, abbiamo cercato di tagliare il meno possibile su questo. Insieme a quello del sostegno al reddito di chi perde il lavoro, perché anche io andranno... Sì, insieme a quello legato, perché poi ci sono fortunatamente dall'altra parte c'è il fondo sociale, quindi va a intervenire in maniera molto più concreta e con fondi, per quanto riguarda invece le politiche sociali, sappiamo che sono finanziate da risorse regionali, da qualcosa che arriva dallo Stato centrale, però poi in questo momento non ci sono altre risorse. Poi per il futuro, se riusciremo a reperirne ulteriori, è chiaro che le emergenze sono lì. Scusi, Assessore, se un cittadino o un pensionato vuole andare a vedere queste cose che lei ha annunciato, dove va a vederle nei siti? Ma allora noi cerchiamo di comunicare... Io le faccio questa domanda, perché... Manca l'informazione, forse, lei dice. Su quello della Regione Veneto... C'è niente. Allora, noi cerchiamo di... C'è niente. No, allora, noi cerchiamo di comunicare tramite gli enti locali. La settimana prossima farò un incontro con Lanci, anche con... Quindi i pensionati li mando in comune? No, ma è chiaro che noi dobbiamo... Ogni mese devo vedere se ci sono... No, 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 ma allora, stiamo cercando, tipo i progetti, le prassi, eccetera, di informare gli enti locali, che poi di conseguenza anche con Lanci dovrebbero un po' informare con gli assistenti sociali, insomma, c'è la rete, perché noi non è che possiamo sicuramente andare a intervenire su ogni singolo cittadino e di informare. Ci possono essere anche degli strumenti, probabilmente dovremmo affinare ancora di più la comunicazione, probabilmente anche tramite le sigle sindacali, insomma, su questo. Ci sono i comuni, eh. Cioè, quindi... Sì, allora... No, voglio dire... Se io voglio capire quello che lei ha detto adesso, l'assessore, e voglio andare a verificare alcune cose, dove le trovo? Devo andare in comune? Non posso vederle in un sito? No, figurati. Beh, in genere il comune si fa portavoce di mettere sul sito del comune tutti i bandi che riguardano il sociale. La regione non lo fa. Beh, ma io credo che sia... Mi perdoni, però è lo sportello più vicino al cittadino o al comune? Perché chi conosce molto spesso... È innegabile che la precedente legislatura... La precedente legislatura per il sociale è stata molto, molto problematica nella regione Veto. E quindi tolgo da ogni responsabilità l'assessore presente che sta cercando di recuperare un po' di programmazione, secondo me anche in maniera significativa, ma tutto questo discorso, l'osservatorio, le informazioni, un settore è andato praticamente distrutto, adesso stiamo cercando di recuperare. Stiamo cercando di ricostruire un po'. E dopo un'altra cosa che devo dire, quest'anno nel bilancio del 2016 c'è stato un provvedimento enorme legato a modalità diverse di bilancio per cui non abbiamo più il bilancio di cassa ma adesso di competenza, vuol dire che abbiamo liberato nel Veneto per pagare i fornitori, pagare i contributi delle scuole materne, asilinido, pagare i comuni 1 miliardo 160 milioni, vuol dire che questo è un volano enorme che viene immesso nel Veneto e adesso la ragioneria sta facendo liquidazione. Quindi la cosa adesso stanno lavorando in ragioneria la mattina alla sera, l'allentamento del patto di stabilità l'abbiamo riconosciuto, quindi le cose positive bisogna riconosciarle. E a livello di comunità europea, di fondi europei, assessore, riusciamo ad attingere sull'ambito sociale? Allora l'Europa finalmente penso in questi ultimi anni si è accorta anche del sociale, quindi ci sono gli assi di inclusione, il T9 eccetera sull'inclusione sociale, quindi noi stiamo lavorando su questo proprio perché probabilmente il focus si sta spostando da quella parte, quindi noi dobbiamo essere pronti a reperire tutte le risorse che ci sono. Però questa è una cosa degli ultimi anni, fino a poco tempo fa l'interesse era quello sulla formazione piuttosto che sulle imprese, eccetera. Lì ci sarà il problema della gestione poi di questi fondi, perché si apre poi il problema della gestione dei fondi, ma questi fondi quando riusciremo a reperirli, a raggiungerli ci sarà poi l'erogazione, la gestione. Ci sono già però i nostri fondi. Noi abbiamo già, sull'asse inclusione sociale abbiamo circa 30 milioni insomma che vanno nell'asse, che vanno, che vanno, che vanno, che vanno, che vanno un po' nell'inclusione sociale, sempre tramite i comuni comunque, direttamente dalla regione. No, sono la regione, poi la regione fa i bandi rispetto alle aree tematiche, il comune capoluevo, eccetera, per la gestione. Il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 è di più di 750 milioni, sono i sbagliati, gran parte circa 150 milioni di euro, gran parte per ammortizzatori sociali, formazione e sostegno al lavoro, però da questo settegno 2014-2020 l'Europa ha messo 20% di questo fondo, deve andare per l'inclusione sociale, povertà, inserimento lavorativo dei soggetti in difficoltà, quindi hanno perso lavoro a 50 anni, quindi lo strumento europeo sta diventando sempre più importante per le regioni. Però non era secondaria l'osservazione che ha fatto il Presidente Milanello, perché effettivamente un po', io mi ritrovo anche nelle lettere che ci arrivano, nelle mail che ci arrivano telefonate, cioè il cittadino si trova, magari ha una cultura media, medio-bassa, che non conosce, non ha strumenti di conosce, oppure magari anche Milanello, faccio l'esempio, rappresenta comunque una categoria di un certo peso, di persone che hanno un certo peso. Ma probabilmente, allora l'ha detto il consigliere Senigallia, chiudiamo una stagione insomma un po' particolare, insomma ecco, probabilmente dobbiamo ora impegnarci di più nella comunicazione, l'informazione, il lavoro di rete, ma è quello che stiamo facendo insomma, ecco, anche rispetto ai tavoli che si stanno aprendo adesso, proprio per cercare di fare, per passare molti di più i sindacati, dovrebbe essere un punto, un punto di riferimento per avvisare tutti i propri sogni, tutti i... Io la cosa che penso è questa, adesso le anticipo, le anticipo una cosa che le diremo magari alla prossima occasione. A vedere delle cose, a vedere delle cose. No, no, io confermo il fatto che l'assessore, con l'assessore abbiamo aperto un tavolo importante insomma sul sociale e in particolare appunto sulla programmazione dei servizi relativamente all'area anziani, i piani di zona e il tema dell'invecchiamento attivo, perché come Regione Veneto non c'è una legge regionale che quadro, no, che non c'è neanche in Italia, siamo fra gli ultimi paesi in Europa che non hanno appunto questo provvedimento importante di sostegno. Noi i pensionati continuano ad essere considerati un peso, un costo e non una risorsa, no? Invece in moltissime realtà nazionali, come per esempio la Francia non solo, ci sono delle leggi di sostegno che valorizzano il tempo liberato dal lavoro delle persone anziane e lo mettono a disposizione della comunità, non solo perché magari per qualcuno può essere anche diciamo una opportunità di incidere sul proprio reddito come avviene per esempio per il servizio civile, io non sarei molto d'accordo su quella legge lì, sarei per trasformarla, ma per dire che appunto deve essere valorizzato il fatto che io per la comunità metto a disposizione del mio tempo libero delle mie risorse. Magari mi dai dei bonus di ritorno, mi fai andare al cinema gratis o mi dai un abbonamento di trasporto gratis piuttosto che darmi dei soldi, ma questo lo vediamo. Io penso che appunto, siccome si dovrebbe, mettiamola così, rimettere, fare un quadro di riferimento, rimettere assieme i tanti provvedimenti che sul tema dell'area anziana complessivamente ci sono, segmentati che insomma che sono di aggiustamento in parte di applicazione del piano socio-sanitario eccetera eccetera e quindi provare a tirare un po' le file, potrebbe essere quella l'occasione in cui si incomincia a dire ok, che cosa c'è, cosa va riordinato, che cosa manca. E il tema dell'informazione e dell'orientamento peraltro è una delle materie fondamentali che è stata indicata all'interno di una proposta di legge, anche questa io mi auguro che nel giro di breve diventi bipartisan come quella sul riconoscimento del lavoro di cura che è stata presentata adesso al Senato da tutti i partiti, c'è la firma di un rappresentante di tutti i partiti del quadro parlamentare nazionale. Io spero che anche... Che vuol dire anche il riconoscimento della pensione poi per chi fa questo lavoro di cura. Sì esatto, cioè che è importantissimo questa proposta di legge che è stata presentata quindi io spero che non affronti neanche tutto l'iter parlamentare ma che abbia un canale diciamo un canale prioritario che venga riconosciuto che peraltro è una delle cose che noi stiamo chiedendo il 19 in piazza per dire per tornare alla materia una delle proposte che come organizzazioni sindacali delle richieste abbiamo fatto no, riconosce dal punto di vista contributivo il lavoro di cura che molte persone prevalentemente donne fanno a gratis e volontariamente più o meno. Però appunto tornando a bomba e cioè di che cosa si sente la necessità oltre a pezzi di riorganizzazione dei servizi territoriali su cui magari in una prossima puntata... No, dedicheremo un appuntamento per non buttare troppa carne al fuoco. e quindi le case di riposo, le IPAB, l'assistenza domiciliare eccetera eccetera... Si sente la necessità di pagare meno di 1800 euro al mese... 1800 euro al mese, certamente c'è molta roba, molta carne al fuoco. Io spero che davvero si apra un confronto tutto tondo su questi pezzi perché non solo ne abbiamo bisogno noi visto che la popolazione continua a invecchiare per fortuna ma ne ha bisogno il sistema, l'economia anche del Veneto. Mettere in fila le cose di cui abbiamo necessità, fra cui come si può fare una comunicazione che non deve essere mirata all'universo mondo, deve avere un target di riferimento. Che cosa voglio far sapere al mio amico della CIA, al pensionato che fa riferimento a quell'organizzazione lì? Cosa gli interessa? Il sistema dei servizi, l'offerta dei servizi? Allora devo avere in mente che l'informazione l'ho da al pensionato. Quali possono essere i canali? Oltre a verificare che quelli istituzionali funzionino. Perché io appunto su come funzionano in alcune città o in alcuni comuni... Io vi dico subito non scrivetelo su Facebook se no i pensionati vi uccidono. Facebook e i social li usano moltissimo, ma usare, cioè usarci reciprocamente, cioè costruire una rete di informazione, di andate e di uscite. Non c'è dubbio. Volevo dire qualcosa sui comuni. Allora io ne la faccio dire dopo la pubblicità, perché se no anche io ho qualcuno che mi strozza, sono dalla regia. Dice tutto, pubblicità pochi secondi, se no sforiamo troppo, tra poco. Grazie a tutti.